Dagli studi di Ballarò, Raffaele Fitto ha lanciato pubblicamente la sua sfida ad Angelino Alfano, citando il principio anatomico, ricordato in tempi non sospetti dallo stesso vicepremier. Non ci si può sedere contemporaneamente su due sedie. Sicuramente penso che sia importante che Angelino Alfano, anche per quello che lui ha detto quando fu nominato segretario, richiamando il principio anatomico che un sedere può accomodarsi su una sola sedia, è importante che lui possa in questo momento svolgere bene il ruolo di vicepresidente del Consiglio e di ministro dell'interno. Noi abbiamo bisogno di questo. Quindi lei chiede le dimissioni di Alfano? No, io chiedo un azzeramento condiviso per giungere poi al passaggio successivo. L'ex ministro affronta in tv un tema che ha procurato non pochi mal di pancia nel PDL. Alfano ricopre tre cariche, ministro, vicepremiere e segretario. Ecco perché Fitto lo invita a svolgere bene i suoi incarichi di governo. È un invito a mollare la guida del partito. Azzerare e fare un congresso è la parola d'ordine dei lealisti che si stringono attorno all'ex ministro. In mattinata Galan, sulla sette, ha dichiarato che quello che chiede Fitto è legittimo. Ci sono cento parlamentari con lui, spiccano i nomi e le dichiarazioni a sostegno della linea lealista. Bergamini, Prestigiacomo, Mussolini, Capezzone, Carfagna e tanti altri. L'ex ministro spiega che non ha alcuna intenzione di dividere il partito, ma solo di rimettere in moto il centrodestra. Poi l'ha bacchettata da Alfano, che ha commesso un errore di metodo forzando la mano in aula, senza cercare di convincere Berlusconi prima. In altre parole, il vicepremiere ha messo alle corde il Cavaliere, che per non dividere il partito ha dovuto fare dietro front. Un'azione interpretata da molti come un ricatto e che prima o poi porterà una resa dei conti. È possibile immaginare che si comunica al presidente della Camera la costituenda iniziativa di un gruppo parlamentare. Perché questo non va bene. Ma se succede cosa vuol dire? Non va bene, scusi, è finissimo. Ora Giannini. Lo dico con molta chiarezza, senza alcuna polemica, ma con un intento proprio di capire cosa è accaduto. Non va bene che durante il discorso in aula o nel mentre si discute all'interno del partito, una discussione che lo stesso presidente Berlusconi non ha avuto difficoltà a dichiarare un travaglio interno, perché così è stato ed è evidente a tutti, si faccia vedere un foglietto con i numeri che già c'erano. Perché quello vuol dire non stare all'interno della logica del partito. Fitto ripete più volte che bisogna capire cos'è accaduto, avviare una riflessione e spiega che non c'è alcuna voglia di rompere il partito. Però quella di queste ore è una tregua armata tra lealisti e governisti. Se Berlusconi dirà sì ai congressi verrà il momento della resa dei conti.